Per realizzare lo standard di cartoncino, fate così. Prendete un cartoncino A3, del vostro colore preferito. Tracciate due quadrati sul bordo più corto, in modo da realizzare 5 spazi uguali. Ritagliate due quadrati disegnati, avendo ottenuto la forma tipica dello standard. Incollate un foglio A4 di colore diverso, centrandolo sul cartoncino A3. Applicate nel centro del foglio A4 la sagoma di un giglio di cartoncino. Incollate una foglia ritagliata alla sinistra del giglio e diretta verso il basso. E in identica alla sua destra. Completate lo stemma disegnando due cerchioline sotto il giglio. Disegnate due tondini negli angoli superiori del cartoncino A4, per imitare i chiodi. Piegate il lato superiore del cartoncino A3, per mettere lo spago con cui appendere lo standard. Ed ecco il lavoro finito! Grazie! Grazie a tutti